Hi guys, I win the Youth World Championship, I'm very happy, è stata per me un'esperienza bellissima fare questo mondiale, era il mio primo mondiale in slalom e è andata molto bene, il vento ci ha sostenuto tutti i giorni, le ragazze erano brave e il livello comunque era alto, volevo ringraziare l'allenatore Dario Pasta, Greg per avermi prestato l'attrezzatura e avermi permesso di fare questo mondiale e grazie al circolo, grazie ai miei fratelli, grazie alla mia famiglia.